Musica Abbiamo accennato ad un'esperienza ultraterreno, un'esperienza di paradiso nell'ultimo nostro appuntamento. Oggi cercheremo di capire come Padre Pio viveva quasi ordinariamente esperienze di penetrazione in una realtà che non fa parte della vita terrena. Lo faremo sempre in compagnia del Dottor Giuseppe Caccioppoli che oltre ad essere figlio spirituale di Padre Pio è stato ed è ricercatore di episodi particolari della vita del Santo e alcuni di questi appunto ce li sta donando, ce li sta offrendo in questo ciclo di trasmissioni. Allora, ecco, Padre Pio è l'aldilà, Padre Pio è il paradiso, Padre Pio è i santi, il Signore. Quando vediamo o leggiamo le lettere che Padre Pio scrisse ai suoi direttori spirituali, Padre Benedetto e Padre Agostino, leggiamo delle frasi che sono normali per lui, ma ci lasciano perplessi. Che cosa significa? Come per esempio in una lettera del 14 ottobre del 1912, Padre Pio scrisse a Padre Agostino, la notte al chiudersi degli occhi vedo abbassarsi il velo ed aprirmi dinanzi il paradiso. Ed allietato da questa visione, dormo in un sorriso dolce di beatitudine, con un sorriso dolce di beatitudine sulle labbra e con una perfetta calma sulla fronte, aspettando che il mio piccolo compagno della mia infanzia venga a svegliarmi. Quindi lui vedeva il paradiso dormendo e poi veniva svegliato dall'angelo custode. Questo è il piccolo compagno dell'infanzia, sì. E poi quando parla dell'aldilà fa capire che lui ha visto delle cose che non solo gli riempiono gli occhi, gli riempiono i occhi, ma lui trova tanto difficile a spiegare quello che ha visto. E allora dice forse è meglio che non ne parlo. Così in una lettera a Padre Benedetto del 26 marzo 1914 spiega a lui come è difficile esprimere in parole quello che il Signore gli fa vedere della celeste patria. Padre Pio scrive è come se un povero pastorello viene introdotto nelle stanze del Palazzo Reale dove un finimondo di oggetti preziosi vi sono collocati e che lui non ha mai visto. Il pastorello uscito fuori avrà certamente denanzi agli occhi della mente tutti quegli oggetti vari, preziosi e belli, ma non saprà certamente né indicarne il numero né assegnare loro il vero e proprio nome. Egli desidererebbe parlarne con gli altri di tutto ciò che ha visto, ma vedendo poi che tutti i suoi sforzi non riuscirebbero a farsi intendere, preferisce meglio tessere. E lui dice questo è quello che accade all'anima mia. Tutte quelle cose straordinarie, lungi dall'essere cessate, si vanno sempre più rendendo elevate. Quindi siamo in tutta un'altra dimensione qua. E Padre Pio faceva esperienza per esempio di incontri qui sulla terra di personaggi celesti per esempio. Noi sappiamo che Padre Agostino prese nota di tutte, nel suo diario, di tutte le visioni che Padre Pio aveva e quella che diceva Padre Pio durante le visioni, ma in una lettera a Padre Agostino del 18 gennaio del 1912 Padre Pio scrisse Barba Blu, che sarebbe il diavolo, da vari giorni in qua mi veni a visitare assieme con altri suoi satelliti armati di bastoni e di ordigni di ferro e quello che è peggio sotto le proprie forme. E poi continuo, ma pazienza, Gesù, la mammina, l'angioletto, San Giuseppe e il Padre San Francesco sono quasi sempre con me. E quindi c'è un contatto diretto, quasi quotidiano, quasi continuo con l'aldilà. Ed è Padre Pio stesso che lo ammette, lo dice in maniera esplicita, lo dice al suo direttore spirituale per cui ad una persona con la quale era in perfetta confidenza. Ma Padre Pio, oltre a fare esperienza sulla terra del paradiso, era in grado di dire anche se determinante persone già morte erano in paradiso oppure no. Aveva anche questa capacità, c'è qualche episodio che ci documenta questo dono di Padre Pio. E questo era un dono di Padre Pio che tanti cercavano di sfruttare, tanti nella loro misera cercavano di sapere. E Don Pierino ci viene incontro, riportando alcuni episodi che capitano a lui. Come per esempio, Don Pierino andò da Padre Pio con il pretore del paese. e la sorella del pretore era morta l'anno prima e l'anno prima Padre Pio aveva detto che era in purgatorio. Questa volta Padre Pio disse, è già in cielo. E così sempre Don Pierino disse a Padre Pio, mia madre vuol sapere dove si trovano, vuol sapere da voi dove si trovano i suoi genitori. E Padre Pio, figlio mio, di alla mamma che stanno in paradiso. E dopo alcuni mesi Don Pierino disse al Padre Pio, mio padre è arrabbiato e vuol sapere pure lui dove stanno i suoi genitori. E Padre Pio, stanno in paradiso pure loro. Quindi come se lui fosse in totale controllo. Senza il minimo dubbio diceva e anche di altri ha detto, ha assicurato. Per esempio Padre Paolo Covino sentì Padre Pio subito dopo la morte di Genueffa di Troia che ora è venerabile, che morì nel 49, subito dopo la morte di Genueffa, Padre Pio mi disse, dice Padre Covino, Genueffa è già in paradiso. E lo stesso abbiamo altri episodi, per esempio Carmelo Marocchino che era ospite, faceva la cameriera dell'aiutante di Maria Paglia, aveva il fratello che era Padre Vittorio, Padre Vittorio da Conosa e era morto all'improvviso, il 29 gennaio del 58, senza ricevere i sacramenti. E Carmelo era fissato, voleva sapere perché Dio l'aveva portato via. E tra l'altro senza i sacramenti, proprio un religioso. E Padre Pio le disse, fece poeta, ma le disse questo, Sai che cosa Gesù ha fatto di tuo fratello? Gesù è andato nel giardino e lì c'erano molti fiori, ma uno era più bello degli altri e si è piegato sul più bello e lo ha accolto. E' proprio questo quello che ha fatto Gesù con tuo fratello. E' salvo, ma dobbiamo pregare. E' salvo, ma dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare, significava stare in purgatorio. Così, il 29 gennaio del 58, a luglio, il 29 luglio del 58, Carmela Marocchini chiese di nuovo al Padre Pio. E Padre Pio, figlia mia, noi sacerdoti siamo maggiormente responsabili dinanzi a Dio e quando ci troviamo dinanzi a Dio, dobbiamo presentarci con timore e trepitazione. Pertanto, continuiamo a pregare. E significava, sta ancora in purgatorio. E questo era il luglio del 58. Il 28 dicembre del 58, sei mesi dopo, Carmela chiese di nuovo al Padre Pio. E lui disse, è in paradiso. E come faceva? E come non abbiamo risposto. In questo caso era un frate, ma sapeva, e quindi poteva essere anche scontato capire che si era salvato, anche se non era facile capire il momento in cui c'era stato il passaggio dallo stato del purgatore a quello del paradiso. Ma Padre Pio aveva detto anche che altri che magari avevano una vita apparentemente meno cristiana forse si sarebbero salvati. Padre Alessio rimase perplesso. Padre Alessio rimaneva perplesso del rapporto di Padre Pio con gli angeli. Ma anche rimase perplesso quando Padre Pio gli dice tu ti meraviglierai nel trovare in paradiso anime che non ti saresti mai atteso di vedere lì. E quindi come se ci avessi detto qui ci sta un altro criterio totalmente diverso da quello che noi immaginiamo nel giudicare chi è buono e chi non è. E quindi ha elevato tutto a un altro livello. Concludiamo con un'esperienza di una giovane infermiera che peraltro lavorava a casa sollievo. Questa ragazza, Anna Tremigliozzi completò il corso di infermiera a Napoli e rimase lì a Napoli a svolgere la sua professione per due anni. Dopo due anni conobbe Padre Pio e Padre Pio la invitò a venire a lavorare a casa sollievo, al nuovo ospedale di casa sollievo. Anna aveva solo 22 anni e andò a lavorare alla casa sollievo. Ma dopo due anni appena contrasse l'epidemia asiatica e morì. E tutti in famiglia erano angosciati e pensavano che magari sarebbe ancora viva se non avesse lasciato Napoli. E Padre Pio disse a suo Vincenza sorella di Anna dove credi che è la sorella tua? L'abbiamo mandata in paradiso. Su Vincenza prese a ripetere spesso la stessa cosa. Chissà che fine avrebbe fatto la mia povera sorella se fosse rimasta a Napoli. Perché la sorella sua raguardava anche all'aspetto spirituale. Bene, noi ringraziamo il dottor Giuseppe Caccioppo per averci condotto per mano in questo cammino alla scoperta di tanti episodi meno conosciuti della vita di Padre Pio. E ringraziamo anche voi amici telespettatori per aver seguito questo ciclo di trasmissioni.